Ragazzi bentornati nella late minecraft oggi siamo tornati qui con questa nuovissima serie che c'è appunto ogni martedì quindi non mancate Anche per oggi abbiamo tre semplicissime regole da seguire La prima è lasciare un bel pollice in su questa volta cliccatelo col mignolo senza rompervi il dito sul telefono La seconda ragazzi vediamo chi indovina dovete completare questa frase una sorta di quesito Quindi indovinate scrivetelo nei commenti mentre la terza ragazzuoli è la più importante Nascondetevi trovatevi un bel nascondiglio Già lo avevate trovato negli scorsi video ritornate lì a nascondervi Buona visione Nell'episodio precedente Quello non c'era quando sono entrato Ok ho trovato la carta Ora possiamo sbloccare credo che possiamo Ok possibile Oh oh no 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 sta crollando tutto Salta fuori dalla finestra Salta dalla finestra Nooo no 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 Bella rossoli e bentornati in questo nuovissimo video Sono CrisioGiott7 e siamo con i ragazzi Tornati con un nuovissimo video Della late minecraft La nostra serie horror Io mi sono stupato di giocare a questo gioco Guardate dove siamo finiti Mi trolla Prima di iniziare vi invito a lasciare un bel pollice in su E se non vi siete ancora nascosti Mi raccomando nascondetevi Perché è molto importante Cosa è successo ci siamo buttati da una finestra Sì nello scorso video siamo caduti da una finestra Voi vedete una finestra No ci siamo ritrovati In mezzo dei bidoni dell'immondizia Cioè ci hanno buttato nella spazio C'è una macchina Perché no Se io mi avvicino alla macchina Ah vado sotto Quindi vuol dire che ci dovremmo nascondere Mi stai dicendo Mi stai dicendo che ci dovremmo nascondere E qui ci stanno altri bidoni Io direi di andare un pochino in giro No 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 E chi era qui No è qui Oddio Oh mio dio Ok Dicevo ragazzi Se sentite dei click un po' diversi dal solito È perché Ho cambiato tastiera Presto ve la farò vedere sul canale Mi raccomando non preoccupatevi Quindi rimanete attivi se la volete vedere E io non ho capito Ho visto un tizio bruttissimo Arrivarmi Addosso ma Non stava facendo niente di male Ma dove siamo? In un parcheggio sotterraneo Ok E dove devo andare? Bo regà io vado No 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 Porca putt**a Vaffa Che caga ragazzi Che caga Mi son cagato sotto Ma era un cazzo di ragno gigante Non so neanche io che cazzo Che caga Oh mio dio No no Oddio Che caga assurda Ma state scherzando No era la strada sbagliata Che cos'è quella roba in fondo regà? Sembra quello che ho incontrato prima No no io vado sotto la macchina Oddio è lì È lì C'è il tizio Ma che paura Regà mi son cagato sotto C'era il tizio C'era il tizio dietro la colonna Io non ci esco da qua Ma voi state scherzando? Ma voi siete matti proprio Regà vado sotto quella macchina io Vai sotto Bastardo Guardatelo lì È sparito No 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 Regà mi stava venendo a prendere Mi stava venendo a prendere Ma voi state scherzando? No 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 Non ci siamo proprio Ma porco due Ma lo sento arrivare C'ha quelle zampe dal toporagno Oh porca madre Che brutto che sei No è proprio brutto Regà cioè è terribile È terribile Cioè non mi spavento più eh È stato il primo impatto Ma è terribile Cioè Davvero È un qualcosa di allucinante Questo gioco ragazzi è spettacolare Considerando che non servono mod Command block o cose strane È già tutto fatto È davvero spettacolare Se volete questo download Poi alla fine della serie Lasciatemi un bel polligione in su Guardatelo lì Infame Dai È rientrato sotto la macchina Che palle Oddio Via E mo Dai io scappo Tal che Parla con lui Parla con lui Parliamo con lui Parliamo con lui Dai 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 non possiamo lasciarlo per terra Ok è tutto a posto No Non mi dire che era fake Era finto E come passo io Ti prego Sono incastrato Sono con me Regà Ci siamo in carta No Dai Arriva dopo un totti di secondi Quindi devo cercare di fare il più veloce possibile Via questo Via questo Via Ti prego Oh ce l'ho fatta E mo Vai via Dai dai Cri Corri No 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 Regà Io salgo Tutte le scale Non mi interessa niente Io me ne vado E mo Siamo sul tetto E mo Ma cosa cavolo sta dicendo Non mi voglio buttare di sotto Ah no Secondo me si Perché Ma è finita Ma è finita Nooo E volevo che duraccia ancora un po' questa serie Bella Bella serie Bella serie Mi è piaciuta ragazzi Mi è piaciuta davvero Sono stati 3-4 episodi più intensi Della storia di Minecraft Mi è piaciuta davvero tanto Allora ragazzi Siccome questa serie è finita Fatemi sapere se ne volete un'altra Per il prossimo martedì Sempre rimanendo sul genere O magari scrivetemi O consigliatemi il genere Nei commenti Diteci ragazzi Io vi ringrazio tantissime per la visione Fatemi sapere cosa ne pensate Lasciate un bel pollice in su E provate a completare La prima frase Della partita Vi ringrazio ancora Dattissimo per l'ascolto Vi invito a lasciare un bel pollice in su E se siete rimasti fino adesso Scrivete Hashtag Fino alla fine Vi ringrazio ancora moltissimo E che dire Noi ci becchiamo Nel prossimo video Wuhuuu